Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube Blue Voice Live collegato al canale YouTube rubrica dialoghi di Claudia Marcelli e alla pagina gruppo Facebook entrambi dal titolo alla ricerca dell'agnosi. Oggi cominciamo la lettura di un testo fantastico di Rudolf Steiner dal titolo La filosofia della libertà. Questo primo capitolo si intitola L'azione umana cosciente. È l'uomo nel suo pensare ed agire un essere spiritualmente libero o egli sta sotto la costrizione di una ferrea necessità basata su leggi puramente naturali? Su poche questioni si è tanto aguzzato l'ingegno umano quanto su questa. L'idea della libertà del volere ha trovato caldi sostenitori e ostinati oppositori, numerosissimi gli uni e gli altri. Vi sono uomini che nel loro pathos morale chiamano addirittura spirito ristretto chiunque possa negare un fatto così palese come la libertà. Di fronte a loro stanno altri che considerano invece il colmo della non scientificità il credere che la necessità delle leggi della natura rimanga sospesa nel campo dell'agire e del pensare umano. Una stessa cosa viene proclamata del medesimo tempo o il più prezioso bene dell'umanità o la peggiore illusione. Infinito acume è stato applicato per spiegare come la libertà si accordi col procedere della natura alla quale pur l'uomo appartiene. Con non minore fatica è stato tentato dall'altra parte di spiegare come sia potuta sorgere una simile illusione. Chiunque non abbia per tratto peculiare del suo carattere il contrario della posatezza sente che qui si sta di fronte ad uno dei più gravi problemi della vita, della religione, della pratica e della scienza. E fa parte dei tristi indizi della superficialità del pensiero odierno il fatto che un libro, il quale in base ai risultati delle più recenti ricerche sulla natura vorrebbe coniare una nuova fede, non contenga su questo problema altre parole che le seguenti. Nella questione della libertà del volere umano non dobbiamo qui impegnarci. La supposta indifferente libertà di scelta è stata sempre riconosciuta come un vuoto fantasma da ogni filosofia che fosse degna di tal nome. La determinazione del valore morale delle azioni e delle intenzioni umane resta d'altronde indipendente da quel problema. Qui Steiner ha effettuato un riferimento sul testo La vecchia e la nuova fede di David Friedrich Strauss. Prosegue. Non ho citato questo passo perché io sia dell'avviso che il libro dello Strauss abbia speciale importanza, ma perché esso mi sembra esprimere l'opinione fino alla quale riesce ad innalzarsi nel campo di questo problema la maggioranza pensante dei contemporanei. Attualmente ognuno che pretenda di possedere almeno i primi elementi della scienza parche sappia che la libertà non può consistere nella scelta completamente arbitraria fra due azioni ugualmente possibili, dell'una oppure dell'altra. Si ritiene che vi sia sempre una causa interamente determinata per cui, fra parecchie azioni possibili, una soltanto viene portata a compimento. Ciò sembra evidente. Tuttavia i principali attacchi degli oppositori della libertà si rivolgono fino ad oggi esclusivamente contro la libertà di scelta. Perfino Herbert Spencer, le cui vedute guadagnano ogni giorno di estensione, dice nei principi della psicologia che ciascuno di noi a suo piacimento possa desiderare oppure non desiderare una cosa, il che in fondo è l'ossioma principale nel dogma del libero arbitrio, è negato tanto dall'analisi della coscienza quanto dal contenuto dei precedenti capitoli della psicologia. Dallo stesso punto di vista partono anche altri nel combattere il concetto del libero arbitrio. In germe tutte le considerazioni a riguardo si trovano già in Spinoza. Ciò che questi aveva detto in modo chiaro e semplice contro l'idea della libertà fu, dopo di lui, ripetuto innumerevoli volte, ma generalmente inviluppato nelle dottrine più cavillosamente teoretiche, sicché è diventato difficile ritrovare il filo semplice e diretto del ragionamento, che è l'unico che abbia importanza. In una lettera dell'ottobre o del novembre 1700-1674 Spinoza scrive Io chiamo libera una cosa che esiste e agisce per semplice volontà della sua natura e forzata quella che viene invece determinata all'esistenza e all'azione, in modo preciso e fisso, da qualcos'altro. Così per esempio Dio esiste liberamente, benché necessariamente, perché sussiste soltanto per la necessità della sua propria natura. E così Dio conosce liberamente se stesso ed ogni altra cosa, poiché soltanto dalla necessità della sua natura consegue che egli tutto conosca. Voi vedete dunque che io faccio consistere la libertà non in una libera decisione, ma in una libera necessità. E prosegue Spinoza. Scendiamo ora alle cose create, che vengono tutte determinate all'esistenza e all'azione, in modo fisso e preciso, da cause esterne. Per comprendere più chiaramente, consideriamo un caso semplicissimo. Per esempio, una pietra, cui venga comunicata da una spinta esterna una certa quantità di moto. Continua necessariamente nel moto, dopo che la spinta della causa esterna sia cessata. La persistenza della pietra nel suo moto, quindi, è forzata e non necessaria, perché deve essere definita dalla spinta di una causa esterna. Quello che qui vale per la pietra, vale per qualsiasi altra singola cosa, per quanto complessa possa essere. Ogni cosa, cioè, viene necessariamente determinata ad esistere e ad agire, in modo fisso e preciso, da una causa esterna. E prosegue. Immaginate ora voi, per favore, che la pietra, mentre si muove, pensi e sappia che sta sforzandosi, per quanto può, a perseverare nel suo movimento. Questa pietra, ora cosciente del suo sforzo e per nulla indifferente nel suo comportamento, crederà di essere completamente libera e di persistere nel suo movimento per nessun'altra causa, se non perché lo vuole. Ma questa è quella libertà umana che tutti ritengono di possedere e che consiste solo in questo, ossia che gli uomini sono coscienti dei propri desideri, ma non conoscono le cause da cui essi vengono determinati. Così il bambino crede di desiderare liberamente il latte, il ragazzo irato crede di desiderare liberamente la vendetta, il timido la fuga. Così l'ubriaco crede di dire per sua libera volontà quelle parole che tornato in sé vorrebbe non aver dette. E poiché tale pregiudizio è innato in tutti gli uomini, riesce molto difficile di sfarsene. Infatti, se anche l'esperienza insegna sufficientemente che nulla gli uomini sanno dominare così poco come i propri desideri e che, mossi da opposte passioni, essi vedono il meglio ma seguono il peggio, purtuttavia si ritengono liberi. È proprio per questo che vi sono cose che essi desiderano di meno e che certi desideri si possono facilmente domare per mezzo del ricordo di altri a cui si pensa spesso. E qui termina la ripresa di Spinoza. Poiché abbiamo qui davanti a noi una concezione chiara e chiaramente espressa, ci sarà anche facile scoprire l'errore fondamentale che in essa si nasconde. Come è necessario che la pietra compia un determinato movimento in seguito ad una spinta? Così dovrebbe essere necessario che l'uomo compia una certa azione quando vi è spinto da una qualche causa. E soltanto perché l'uomo ha coscienza della sua azione, egli si riterrebbe libero autore dell'azione stessa. Trascurerebbe però di vedere che vi è una causa che lo spinge, a cui egli deve incondizionatela, assolutamente a soggettarsi. L'errore di questo ragionamento è presto trovato. Spinoza e tutti quelli che pensano come lui dimenticano di notare che l'uomo non ha soltanto coscienza della propria azione, ma può aver coscienza anche delle cause dalle quali è guidato all'azione. Nessuno contesta che il bambino non è libero nel desiderare il latte, come non è libero l'ubriaco quando dice cose di cui più tardi si pentirà. Entrambi ignorano completamente le cause che sono attive nelle profondità del loro organismo e sotto la cui incontrastabile costrizione essi si trovano. Ma è giustificato mettere in un fascio azioni di tal genere con azioni nelle quali l'uomo non soltanto è cosciente del proprio agire, ma anche delle cause che lo spingono? Sono forse le azioni degli uomini tutte di un unico genere? L'azione del guerriero sul campo di battaglia, quello dello studioso nel laboratorio scientifico, e quella dell'uomo di stato nelle più intricate circostanze diplomatiche, possono seriamente essere messe allo stesso livello con l'azione del bambino che cerca il latte? È ben vero che un problema si risolve tanto più facilmente quanto più semplice è il caso di cui si tratta. Ma è anche vero che già molte volte l'incapacità di discernimento ha portato ad una confusione senza fine. Ed è una differenza assai profonda quella che scorre fra il caso in cui so perché faccio una cosa e il caso in cui non lo so. A tutta prima questa sembra essere una verità evidente, eppure gli oppositori della libertà non si chiedono mai se un motivo della mia azione che io riconosca e compenetri rappresenti per me una coercizione nello stesso senso in cui per il bambino è coercizione il processo organico che lo fa gridare per il latte. Edward von Hartmann a pagina 451 della sua fenomenologia della coscienza morale afferma che la volontà umana dipende da due fattori principali, dalle cause motrici o motivi e dal carattere. Se si considerano gli uomini come tutti uguali o soltanto irrilevantemente diversi, allora il loro volere appare determinato dal di fuori, cioè dalle circostanze che ad essi si presentano. Invece se si considera che per uomini diversi una rappresentazione diventa motivo di azione, soltanto quando il loro carattere è tale che la rappresentazione suscitinessi un desiderio, allora l'uomo appare determinato dal di dentro e non dal di fuori. E poiché una rappresentazione impostagli dall'esterno deve essere dall'uomo in conformità col suo carattere, trasformata in causa motrice, egli si ritiene libero, cioè indipendente da cause motrici esterne. La verità però, secondo Edward von Hartmann, è che se anche siamo noi stessi che eleviamo le rappresentazioni a motivi, non lo facciamo tuttavia arbitrariamente, ma secondo la necessità della nostra disposizione caratterologica, quindi in modo tutt'altro che libero. Anche qui, spiega Stana, si trascura di distinguere la differenza fra i motivi che facciamo agire sopra di noi soltanto dopo averli penetrati con la nostra coscienza e quelli invece che seguiamo senza avere, averne chiara coscienza. E questo ci porta immediatamente al punto di vista dal quale la cosa deve essere qui considerata. Può il problema della libertà del nostro volere essere studiato per se stesso isolatamente e, in caso negativo, con quale altro deve essere necessariamente collegato. Se vi è una differenza fra un motivo cosciente del mio agire e una spinta incosciente, allora dal primo problema da trattare che dovrà essere giudicata in modo diverso che non un'azione provocata da un cieco impulso. Il primo problema da trattare, dunque, è quello di questa differenza e dal risultato cui giungeremo dipenderà la posizione che dovremo assumere rispetto al vero e proprio problema della libertà. Ebbene, che cosa significa avere conoscenza dei motivi delle proprie azioni? Questa domanda è stata troppo poco considerata perché purtroppo si è sempre diviso in due ciò che è un intero indivisibile. L'uomo. Si è distinto l'uomo agente, colui che agisce, dall'uomo conoscente, colui che sa. E si è trascurato quello che importa innanzitutto, ovvero l'uomo che agisce basandosi sulla conoscenza. Si dice, l'uomo è libero quando sta soltanto sotto il dominio della sua ragione e non sotto quello degli impulsi animali. Oppure, libertà significa poter determinare la propria vita e il proprio agire secondo scopi e decisioni. Con affermazioni di questo genere però non si guadagna nulla. Infatti, sta proprio qui la questione. Sapere se la ragione, se scopi e decisioni non esercitino sull'uomo una costrizione analoga a quella che esercitano gli impulsi animali. Se, senza mio intervento, una decisione ragionevole sorge in me con la stessa necessità con cui sorgono in me la fame e la sete, allora io posso soltanto seguirla per costrizione e la mia libertà è un'illusione. Un'altra definizione suona così. Essere libero non significa poter volere ciò che si vuole, ma poter fare ciò che si vuole. Questo pensiero fu caratterizzato con acute parole dal filosofo poeta austriaco Robert Hameling nella sua Atomistica della volontà. Egli afferma l'uomo può senz'altro fare ciò che vuole, ma non può volere quello che vuole, perché la sua volontà è determinata da motivi. E si domanda, non può volere quello che vuole? Esaminiamo più da vicino queste parole. Vi è forse in esse un senso ragionevole? La libertà del volere dovrebbe consistere nel poter volere qualcosa senza ragione, senza motivo? Ma che altro significa volere se non avere una ragione per desiderare o fare una cosa piuttosto che un'altra? Volere qualcosa senza ragione, senza motivo, sarebbe volerla senza volerla. Col concetto del volere è inseparabilmente collegato quello del motivo. Senza motivo determinante, il volere è una vuota potenzialità. Soltanto grazie al motivo esso diviene qualcosa di attivo e di reale. È perciò giustissimo asserire che il volere umano intanto non è libero, in quanto la sua direzione è sempre determinata dal più forte dei motivi in gioco. Ma, d'altra parte, bisogna riconoscere che è assurdo contrapporre questa non libertà ad una libertà del volere concepita come facoltà di volere quello che non si vuole. Questo è tratto dall'atomistica della volontà, volume secondo, pagina 213 e seguire. Riprende Steiner. Anche qui si parla soltanto di motivi in generale, senza fare attenzione alla differenza fra quelli coscienti e quelli incoscienti. Se un motivo agisce su di me ed io sono costretto a seguirlo perché esso si dimostra il più forte fra tutti, allora certo l'idea della libertà perde ogni senso. Che significato può avere per me il potere o non potere fare una cosa quando dal motivo io fossi obbligato a farla? Ciò che importa anzitutto non è se io possa o fare o no una cosa, quando il motivo ha agito su di me, ma se esistano motivi tali da agire su di me con necessità costringente. Se io devo volere una cosa mi è in certi casi del tutto indifferente poi che io possa farla o meno. Quando a causa del mio carattere e di circostanze esterne mi venisse imposto un motivo che il mio pensiero riconoscesse come irragionevole, dovrei anzi essere contento di non poter fare quello che voglio. Quello che importa non è se io possa portare ad effetto una decisione presa, ma come sorge in me la decisione. Ciò che distingue l'uomo da tutti gli altri esseri organici sappiamo si basa sul pensiero razionale. L'agire, egli lo ha in comune con altri organismi, no? Per chiarire il concetto della libertà a nulla giova il cercare nel regno animale analogie all'agire dell'uomo. La scienza moderna ama simili analogie e quando le riesce di trovare fra gli animali qualche rassomiglianza con il comportamento degli uomini essa crede di aver toccato le più importanti questioni della scienza dell'uomo. A quali equivoci possa condurre un'opinione simile appare per esempio nel libro di Paul Ray dal titolo L'illusione del libro arbitrio del 1885 dove riguardo la libertà si dice è facilmente spiegabile che il mondo, che il moto del sasso ci appaia necessario e la volontà dell'asino no. Le cause che muovono il sasso sono infatti esteriori e visibili mentre le cause secondo le quali l'asino vuole sono interiori e invisibili. Fra noi e la sede della loro attività si trova il cranio dell'asino. Il legame causale non si vede e quindi si pensa che non esista. Si ritiene che il volere sia bensì la causa del girarsi dell'asino ma che il volere in sé sia però incondizionato, sia un principio assoluto. Steiner spiega. Anche qui dunque si passa di nuovo sopra quelle azioni dell'uomo nelle quali egli ha coscienza delle cause motrici. Poiché come Ray spiega fra noi e la sede della loro attività si trova il cranio dell'asino. Dalle sue stesse parole si deduce come egli non sospetti neppure che se si considerano le azioni degli uomini anziché quelle dell'asino. Ve ne sono alcune in cui fra noi e l'atto sta il motivo di venuto cosciente. Egli lo mostra infatti qualche pagina dopo con le parole. Noi non scorgiamo le cause che determinano la nostra volontà e per questo crediamo che essa non sia causalmente condizionata. Ma basti ora con gli esempi che mostrano come molti combattano la libertà senza neppur sapere che cosa essa sia. È evidente che un'azione non possa essere libera se il suo autore non sa perché la compie. Ma come stanno le cose per le azioni dei cui motivi si diventa coscienti? Questo ci porta alla domanda. Qual è l'origine e il valore del pensare? Infatti senza la conoscenza dell'attività pensante dell'anima non è possibile farsi un concetto di che cosa sia conoscere qualcosa e quindi anche conoscere un'azione. Quando sapessimo che cosa significa il pensare in generale ci sarebbe anche facile comprendere l'ufficio che esso adempie nell'agire dell'uomo. Il pensare fa sì che l'anima di cui anche l'animale è dotato divenga spirito dice Hegel con ragione e perciò il pensare darà la sua impronta caratteristica anche all'agire dell'uomo. Con questo non voglio affatto asserire che tutte le nostre azioni discendano da calme riflessioni della nostra ragione e sono ben lontano dal definire come umane nel più alto senso soltanto quelle azioni che derivino da un giudizio astratto. Ma non appena le nostre azioni si sollevino al di sopra del soddisfacimento di desideri puramente animali le relative ragioni determinanti sono sempre compenetrate dai pensieri. L'amore, la compassione, il patriottismo sono molle motrici dell'agire che non si possono risolvere in freddi concetti razionali. si dice qui il cuore, il sentimento, reclamano i loro diritti senza dubbio ma il cuore e il sentimento non creano le ragioni determinanti dell'azione le presuppongono e le accolgono nel loro dominio. nel mio cuore entra la compassione quando nella mia coscienza si è già formata la rappresentazione di una persona che desta compassione. La via del cuore passa per la testa. A ciò non fa eccezione neppure l'amore. Quando non è la semplice estrinsecazione dell'istinto sessuale, esso riposa sulle rappresentazioni che ci facciamo dell'essere amato. E quanto più idealistiche sono queste rappresentazioni, tanto più beatificante è l'amore. Anche qui il pensiero è padre del sentimento. Si dice che l'amore rende ciechi per le debolezze dell'essere amato. Si potrebbe guardare la cosa anche al rovescio e dire che l'amore apre gli occhi per i suoi meriti. Molti passano distrattamente accanto a quei meriti senza rilevarli. Uno li vede e appunto per questo si desta l'amore nella sua anima. Che altro egli ha fatto se non crearsi di una cosa, una rappresentazione che cento altri non hanno? Essi non hanno l'amore perché manca loro la rappresentazione. Si potrà guardare la cosa come si voglia. Ci apparirà sempre più chiaro che il problema dell'essenza dell'agire umano presuppone quello dell'origine e del pensare. Mi dedicherò dunque per prima cosa a questo problema. Termina così il primo capitolo e ci vedremo prossimamente con l'impulso fondamentale alla scienza. Buona giornata!